Musica Musica Come si chiama la vostra squadra? Siamo sempre pronti di Antonio Mignogna che sarebbe il capo squadra E da piccoli che facciamo la squadra insieme, siamo un gruppo di amici, circa 30 persone E continueremo a farla per sempre Siete insieme da tanti anni, quanti componenti ha la vostra squadra e che tipo di strumenti suonate? Beh, i componenti sono circa 30-40, poi variano perché ogni anno si aggiunge o magari va via qualche componente Però gli strumenti sono sia quelli moderni, cioè sax, trombe o magari fisarmonica Affiancati agli strumenti più antichi, del tipo bufu, pacchetel, sunelliere, truculatore, eccetera Descriva la maitonata Come? Che cos'è una maitonata? La descriva? Beh, una maitonata è la massima espressione che un ragazzo come me può avere all'interno di una comunità, di un paese È uno stornello satirico di rima baciata, AABB, che viene fatto e viene dedicato poi ai personaggi del paese Domani pomeriggio del primo gennaio sul palco, che cosa sperate per la competizione? Beh, sicuramente speriamo, andiamo sempre ad arrivare primi ogni anno, quindi a vincere il primo posto, poi vediamo un po' come va La faccio, sull'altra nonna, non la vittoria Molta presinta brutta, bestia d'ormellione sfatiata, non è delle ging che manco mangiata Lorenzo, anche voi una squadra, il nome della squadra? I meglio siamo noi Di quante bimbi è composta e che cosa suonate? 13, 14, fisarmoniche, tromba, clarinetti e percussioni Ma anche voi sarete in giro tutta la notte? Speriamo, se possiamo sì E domani sarete sul palco? Sì, ovviamente, per competere anche con le altre squadre Quest'anno si è dato al decoupage, ma secondo me non è tanto capace Michele ha detto, voglio, ma tu sei sciuto pazzo, a dove si cattete tutto si tazzo Ha detto, Michele, ma sei sciuto pazzo, a dove si cattete, ma tutto si tazzo La terza la faccio a Lucia, ti ha aperto il nuovo negozio So io da Daniele, non ci poteva pensare Che l'ucia è aperto, è nata attività Allora, so io da che voleva pancetta Invece mi ha dato, mutante e cavazette So io da che voleva pancetta Invece mi ha dato, mutante e cavazette Quest'altra la faccio sul sabato Antonio Di Maria, lei è un artista In occasione del Capodanno della Notte di San Silvestro a Gambatesa C'è una piccola esposizione delle sue opere Sì, è stato un piacere per me ritornare Tornare a esporre nel mio paese Questa volta ho voluto presentare una nuova linea di oggettistica da regalo Intitolata così, la linea in pronte sannite E uso esclusivamente pietra del Sannio, quindi pietra molisana Lei è anche compositore, questa sera in scena a Gambatesa Che cosa pensa delle maitunate? Ma io penso che sia un evento straordinario Se non altro sono 300 e più anni che a Gambatesa esiste questa voglia di esternare A volte anche rabbia, insoddisfazione Però con uno spirito molto allegorico e anche di felicità Così si cerca di portare alle spalle quello che magari è il passato Per cercare di augurarsi un buon futuro Lei è originario di Gambatesa, l'abbiamo detto Non vive qui da tanti anni Ma mantiene sempre forte il legame con la terra d'origine È il minimo che si possa fare Chi è che non è attaccato a quelle che sono le proprie origini? Diciamo che il fatto di fare le maitunate È anche un modo di poter tramandare così per il futuro Quello che è anche il nostro dialetto La nostra identità, la nostra cultura Le maitunate quindi sono anche cultura, diciamolo Sono sì, sicuramente cultura Perché poi il fatto di mantenere quello che è la propria lingua madre Il dialetto ovviamente E il fatto anche di poter comporre Perché poi fare la maitunate non è molto semplice Perché poi significa avere una grande padronanza Di quello che è proprio la propria lingua madre Il proprio dialetto Quando la mattina Io vamo a scuola Goppo polmante C'è stata una bella vagliola Se t'azzecava Vecina Non compenavano Tenevano Tutto sentimento Però questa squadra Non c'è niente male C'è stata presenza di qualche animale Auguri, buon anno Acaeh 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 Grazie a tutti.